La vita è veramente uno stato mentale, ieri sera la partita Portogallo-Uruguay, a un certo punto a Dani, gol meraviglioso di Ronaldo, il campione si vede in questi casi, avete visto la propria carezzata con la nuca, la propria pelata, questi sono i colpi, i campioni sono questi, la pelata, un gran casino, poi vado a vedere Alvar non l'ha neanche toccata la palla, la palla gli è passata sulla testa, meraviglioso, la vita è il calcio, è uno stato mentale, cioè prima quei gol di Messi che ne ha fatti 180 di quei gol lì, capolavoro il campione, ieri sera Ronaldo, ecco, avete visto che l'ha proprio accarezzata la palla, l'ha talmente accarezzata che non l'ha toccata, allora, squassi di pugnette ad Adani e a tutto lo staff della Rai che lo ascoltano, ma che è anche lui che ascolta anche gli altri, perché è una cosa reciproca queste telecronache infinite che hanno stracciato i maroni a Buddha, che vuole dire... Grazie. Grazie. Grazie.